altra macchina altri problemi adesso stiamo direttamente facendo una scansione questa macchina è finita in componente protezione con tipo tutto e non si capisce bene il perché non ci fa non ci dà altri dettagli quindi sicuramente il quadro strumento in componente protezione il side assist in componente protezione che lì in basso c'è il problema il parcheggio in componente protezione l'autoradio in componente protezione non suona però non dovrebbe avere problemi la luminosità è bassa forse il clima anche dovrebbe andare in componente protezione non lo so adesso facciamo una diagnosi vediamo che cavolo è successo su sta macchina follia vabbè ragazzi io ho fatto una scansione e praticamente tutto è solo componente protezione cioè la macchina è data totalmente in componente protezione non si sa bene il perché tutto tutto abs clima reti di bordo radar airbag quadro strumenti come potete leggerla è tutto andato in componente protezione proviamo a scriverla signori buone notizie intanto la macchina suona l'abbiamo scritta non da error in diagnosi scusate nel quadro strumenti abbiamo dovuto smontare la batteria vedete per fargli completamente poi un reset lasciandola a riposo quindi minimo di smontaggio c'è comunque stato niente di che mentre in diagnosi restano due errori che adesso andiamo a risolvere uno è la seduta riscaldante che non funziona capiamo un attimino da schema elettrico come composta se c'è un fusibile anche qua dedicato perché quella lì funziona questa in più nella rete di bordo adesso si spianta il pc nella rete di bordo c'è un errorino nella centralina che qui dietro che adesso andiamo a risolvere capiamo che mai il funzionamento ha detto ciò la macchina è funzionante e ovviamente va in moto e per concludere la ricerca di guasti ragazzi abbiamo qui dietro una centralina per l'apertura alla gestione del portellone che si era completamente ossidata adesso probabilmente non la ripariamo col cliente ma la isoliamo la eliminiamo motore da scongiurare altri problemi nel tempo e cambieremo anche la batteria perché la batteria praticamente morta di questa macchina e direi che il problema è stato più che risolto e anche lui ragazzi se ne va finito per oggi finito tra l'altro vi racconto una cosa molto curiosa ho chiamato io non recupero materiale non originale di conseguenza non sono in grado di recuperare materiale non originale e volevamo risparmiare qualcosa sulla batteria perché abbiamo deciso di cambiare anche la batteria che viene quasi 400 euro in audi su un audi a 5 320 più iniva mi sembra che ci avessero detto e lo metto è proviamo a risparmiare qualcosa ho chiamato due o tre rivenditori che sono qua attorno alla mia zona da padova e uno mi ha detto al telefono che non mi dà addirittura il prezzo ce l'hanno disponibile ma non mi diceva il prezzo mamma mia ma quanto poverelli siete guarda lo tagherei qua sotto siete proprio poverelli la cosa è la guerra dei prezzi dimmi che prezzo tanto poi al massimo la vengo a prendere il cliente fondamentalmente voleva risparmiare il più possibile e invece ha perso una vendita perché il cliente se la prende a casa sua va bene comunque signori macchina risolta www.vagalper.com registrate il sito e risolviamo tutti i vostri problemi